eccoci amici bentornati in questo nuovo video di sempre 096 oggi giocheremo un gioco nuovo nuovo qual è? fall guys! io sono papi e lei sono male! fall guys ragazzi l'abbiamo appena comprato e scaricato! lo sapete che qualche giorno sarà il mio compleanno? è stato un compleanno da qualche giorno? il 17 febbraio è questo gioco per il mio compleanno e li apriamo subito per la prima volta comunque fall guys e questa è la seconda parte vi ricordate a casa di lorenzo quando l'avevo eliminato per tutte quante le volte? si però abbiamo registrato malissimo stavolta si poi registrando proprio bene 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 e che a casa non mi ricordi che avevi mantenuto tu un telefono non è che l'aveva mantenuto e non è che l'aveva mantenuto il cavalletto tu l'avevi mantenuto perchè gli stai letto in mezzo infatti ci l'avevo mantenuto io abbraccio volete che abbiamo il cavalletto guardate che bella inquadratura andate anche ai giopetti che si vede? viene riflesso nella tv per mare lo spento la luce vado a vedere se vedi fate così oh ok oh un putto nero dalla finestra si vede un po' bianco oh mio Dio qua ci sembra non si vede un po' bianco start dai scuola mi fai le prima premas spolins e hai detto tu vuole vai? yes start yes prima volta che gioca a foggast quando gioca a foggast ma gioca a foggast però tutto a gioco Lorenzo vuoi più sai come si girano i tasti? si dovrebbe essere con la x in salta e con qua c'è cammina vediamo però per scuola che non c'è la via che non c'è la via in prima persona perchè se no si deve agitare la visuale ma dove è che non c'è la via? ma dove c'è la via? chiudi no bisogna chiudere la camera come lo creiamo? eh andiamo a metterci dei dati e creamolo un attimo ok mettiamo in pause ci vediamo tra un secondo ecco qua ragazzi la migliore è mai giocata che ho un dopo è la registrazione stiamo già partendo da una nuova avventura looking for players ovviamente cosa dobbiamo fare e dobbiamo aspettare yeee vabbè adesso che penso che sta looking for players quindi dobbiamo guardare gli altri giocatori come facciamo? ma è il show devo mettere il focchio a sacchietto poco devi aspettare che le altre persone finiscono al gioco secondo me sì è tutto ci mette un'ora sto qui e il tuo show è che vuole? eh o che vuoi? non vuoi niente? eh no se te mi cerchi ti fa betta da me niente e poi? eh no devi cominciare a datare con i miei qual è il tuo gioco alla Danny? se si ha posp Carolina? Aspetta no fa il cancellato se mi cerchi vuoi aspettare che questo sta caricando un anno ovviamente Si sta popolando, dobbiamo arrivare a 60 su 60. Lo show partirà tra 21 secondi. Quindi non poteva arrivare a 60, possiamo anche aspettare. Non si mette a 60, però tra 15 secondi comunque parte. Questo è un gioco tipo battaglia royal, dove è un mare di sfidaggi online. Dobbiamo sfidarci per cercare di riuscire la gaia e dobbiamo arrivare in 40 e qualcosa praticamente. Eccolo qua, 59 e 60. Comincia fighting for players. Aspetta per il giocatore. Guarda il seo! In alto a sinistra, il destro ha scritto guarda sinistra, e in alto a destra ha scritto 2 play. Il gioco si fa interessante. Sì, siamo da 0 a 4 minuti, non abbiamo più giocato, però... Deve essere fatti doveva essere, non lo so. Oh, dove ci siamo, quella rosa? Sì, dove ci siamo, la rosa! Non potevi cambiare la schifta. Eh no! A più o meno non ho iniziato. Siamo già boccati. Oh, in mezzo, in mezzo, in mezzo! Salta, 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 salta! Oh, per la miseria! No, non salta la cammina, cammina e che fa salire se cammini, se saltinò. Ok, salta di là, se cammini di far camminare salinò. Capito? Allo scoprillo che non annaggia la miseria. Ricorda di questa cosa su queste passerelle. fatta? 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 Cadavo? Qui? Quello che devo salire qui? Quello debbiamo salire. Sali, sali, sali... Vabbè, quello di qua. Ok, va bene quello di qua... Aiaaaah! Sani facciamo, dai, non è un problema. C'erano di 42 qualificati, per fortuna. Vai, salta, ora. Firmati, di riporare le forze, aspetta il tumore... è tutto giusto possiamo scende per scende vai ora salta su quella rosa muscolo azzurro eh no devi salire ora e metti su quello giallo vai qui su aspetta oltre a 2 se sali scende vai ora vai da da e sali su quello giallo metta che scende vai sali su quello giallo ok ora se quello giallo ce la fai ok sali 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 non ci parte di portarci voi no teni ci qualificati l'ho perso riprova non è ancora aperta l'ultima parola sediamo a questo vai se quello giallo sali 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 vai con torci qualificati solo vai qua non cerca ce l'abbiamo fatto al check allora quali sono le due vittorie vai sui rosa 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 ok sali su vado giallo dall'altro lato non copriva saltate quanto per il giallo di 24? vai con questo lato qui vai vai sui giallo aspetta 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 che scende viola vai vai sui viola ok aspetta sali su vai dall'altro lato bene così bravo ok vai a destra a destra nooo guarda quanto mancava guarda è bellissimo io direi di provarci perché il gioco è molto interessante si oh per essere molto male eh bam non so che dai tanto male avessimo perso il giusto una volta il mio forse di momento si riproviamo se io gioco io gioco tu scelta tu scelta l'altra abbatto una qua 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 cambia non vuoi cambiare lo skin? no perchè? ma abbiamo iniziato no come lo facciamo perchè ci hai dato dopo un po' di tempo le skin diverse non lo puoi cambiare già da ora? no guarda come ce l'ha dato una vedi se vado cambiare secondo me guarda come se è caricato non lo puoi cambiare un po' di tempo guarda questa volta più si può cambiare sei pronto? sì io scommetto che questa volta ce la facciamo a qualificare le prime 42enne e mezzo si bravi grande da questa volta la gente ci ha dato un po' di tempo No, questo è difficile. No, non è difficile se davvero lo vuoi. Mi giuro che spacco il Joseph. Watch for players. Mi giuro che spacco il Joseph. Oh, devo cominciare. No, lo spacco veramente. No, devo cominciare. Dai, questa battola è carina. Carina, guarda quanto... Ti piace questa? No, si è scelta una sola. Ah, è automatico? Porca miseria, questa è difficilissima. Porca miseria. Vabbè, dai, si può fare. E poi dai da tutto che devo mettere, eh? Vabbè, capirai, subito per avanti, dai. Vedi quello che fanno gli altri. Pruttopite il tubo. Vabbè, fanno i tubi. Vabbè, è facile. Non ti fa andare da solo il tubo, vedi? Il tubo di non cadere il buco, però. O diventare il buco. Forse ci deve andare il tubo. Sì, perché devi scendere giù. Vabbè, questo tipo di filtro. Vabbè, guarda che c'è la pesce. Stai sui rischi che girano? Sì. Vai, si salta su quello. Bene. Aspetta a andare al centro. Bene. Vabbè, stai andando benissimo. Stai andando le palle. Madonna, la palla è f... Vabbè, vai, che fattolo? Devi andare. È per quella ricerca. Che c'è la ricerca? Vabbè, la macchia. Vabbè, la macchia. Vabbè, la macchia. Vabbè, la macchia. Non mibandi inoltre che forse così, ti ti partono indietro. Dai, ti partono indietro. Mi chiamate quest'anno? Vabbè, il tubo? No, io non lo vedo. Vi vado. Sono arrivati. Oica miseria. Mi si andando qua su. su quello che va avanti, adesso torna indietro torna indietro e poi sale qua su, capito? no? questo ti gira e ti butta giù, questo ti gira e ti butta giù no, ti rendere quanto è verde, così quello ti gira e ti butterà avanti, togli, aspetta che si fa bene ciao ciao che miseria questa è una roba difficile, porca miseria se no c'è da uno più facile io ti devi fare un'altra battle, che ne pensi? intanto comunque ogni battle che facciamo anche se prendiamo a cuocche piccole che un pittino te lo dà e poi lo di quest'altro e sto sognando le pittino un po' di scembre e sto sognando le pittino quattro due è un po' di scembre secondo me. Ma noi siamo già sul primo. Ok. Non la cambiamo la scritta, lasciamo sempre questa. Ma non ce la fanno cambiare. Ma sei sicuro? Sì. Quindi una quarantina su 60 si salvano, diciamo, due su tre. E noi due volte ce l'abbiamo presso. Ottimo. Direi un'ottima media. Sì. Facile. Questo sembra abbastanza alto. Questo è quello di prima. Eh, non so, quindi già lo conosci. Cerca di non vendere. Dai. Ricordati il fatto dei tappeti che si vuole. Guarda, io metto la visione in alto così vinco. Vai. Ricordati che i tappeti si vuolano. Questo sì. Non lo ricordo. Ah, hai capito? Ma si vuol quando uno ci va sopra. Eh sì. Io lo sapevo già questo. Eh, quindi più persone salvano e più si muovono i tappeti. Eh sì. Dai. Dai. Vai, sali su. Vai, vai al centro su quello giallo. Sali su, sali su. Ok. Vai sul giallo qua che sale. Ok. Vai sul rosa ma che adesso ricomincia a salire. Sali su, sali su, sali su. Ok. Sali sulla piattaforma. Guarda. Guarda, tu li ho modificati qui. Sono pure tanti i 41, eh? Sì. Prima erano solo 40. No, pure prima 41. Prima erano 42. Prima erano 42. La livello di prima. Livello di prima. Vai. Questa è la parte difficile. Mi raccomando, se fai su questo abbiamo vinto. Vai. Vai sull'arancio. Vai. Vai sul blu. E' l'aspetta. E' l'aspetta. E' l'aspetta. Mi raccomando. C'è la prossima mare. Vai. Blu. Giallo mentre sale. Bravo. Adesso sale. Aspetta, aspetta che andavo a tornare. Ano a tornare. Vai su il piove. Bravo. Sali su, sali su, sali su. Su l'azzurro. 5 qualificati per giallo. Bravo. Non ci frega niente. Vai, vai, vai. Piove, andiamo. Vai. Adi avanti. Vai. Ci fai per te di rosa. Rosa. Gira e sali al contrario. Ora salta su rosa. Bravissimo. Poi adesso in centro. Salta sulla pedana. bravissimo stanno ancora 11 quali filati ce la possiamo fare vai su un lato non andare in mezzo eccolo qui sali su rosa vai salta su sali su sali su su blu su giallo su giallo ok sali su sali su sali su aspetta che adesso scende rosa vai adesso scende rosa ora si sali su sali su sali su al centro ti butto su giallo vai ce ne sono ancora 20 qualificati ce la possiamo fare no no 4-8 sali su sali su ok scendi di là no dall'altro lato dall'altro lato non ce la possiamo fare vai salta ma che cappolo vai di là sali abbiamo l'ultimo di qua quello scende ora dall'altro lato vai 28 ce la facciamo dai si ce la facciamo 31 e quindi 12 metri yeee per la prima volta riusciamo a qualificarci al 36esimo posto non c'è ragazzi non c'è stai a cercare ancora l'abbiamo uscita dai guardiamo prendete prom ora la prima battle l'abbiamo battuta trofeo guadagnato one small trip adesso vediamo se ci legavano la skin dai no se la legavano con i punti eh se abbiamo fatto abbastanza punti da vincere la skin vediamo second battle ok facciamo solo questa battle e poi facciamo la prossima ottenuto io facciamo questa e un'altra e poi facciamo il saluto questa è un'altra battle si ma questo poi il continuo di quella o è un'altra nuova un'altra nuova deve essere non è che il continuo di quella lì che sono rimasti noi 42 no ne devono essere noi giocatori non solo tanto ha vinto può darsi no perché sempre 60 anni sono quindi ricominciare a capo ma 28 27 26 25 ricominciare a capo perché c'è un'altra lotta 60 quindi però sarebbe bello se si continuasse ad esempio quelli che sono rimasti piena di vera l'ultimo alla fine capi se potete riuscire mai qualche volta arrivare prima è possibile perché se ci mettono prima ce la facciamo però Renzo che spalcava tutti quei Joe Pad Renzo non chiudiva quasi mai però che è molto puramente no non l'ha inventato una volta no eliminato tutti i round perché lui spalcava il Joe si ha spaccato un sacco il Joe quindi la distrazione che doveva collegare era sempre il lato ultimo questo già vi piace questa battola questo è facile questa battola mi piace ma lui basta arrivare tra primi 20 sarebbe già un miglioramento queste porte come si aprono si si aprono da sole quindi aspettare che si aprono la morte devi buttare e poi arriviamo alla fine saliva su no noi siamo sopra dopo dobbiamo scendere e ora dobbiamo essere buttati a capire quale porta si aprono va bene siamo dietro come andiamo ah ma lo siamo di più sopra ah le sfondiamo quindi va bene infatti l'hanno sfondito già noi non perdiamo altro tempo però ti dobbiamo di saltare ah ma non so tutte bene ah qualcuno è finta hai capito quindi bisogna anche capire qual è se ne è brutto già seguite vai sei a buon punto però vai ce ne sono due aperte scegliete una questa bene e poi ce ne saranno due aperte ma diventano sembrine o no le porte capito ci sono quattro ora sono tre non è come questa l'ultima derlame c'è uno scivole l'orbe finato allora ci sono un sacco però no no 19 per ultime è ovvio no che sfighissima no ultima partita troppo alla fine non ce l'avevano troppo in dito rispetto agli altri diciamo l'ultimo livello vediamo se questa ci va meglio troppo figo questo gioco a me piace tantissimo vediamo quanto è difficile adesso volare adesso c'è subito 49 su 60 credo si 49 12 vediamo un po il frattempo cosa ci mettono ora a caricare ok abbiamo sbagliato la grande abbiamo toccato grandissimo è perdito poco da 20 mostra 44 figurati 50 mi sa di 60 50 mi sa di 650 dai prima di 45 non è impossibile se davvero lo vuoi, ma questo c'ha pure le asce che vanno avanti per tagliare la metà no, queste dici, queste buttano giù lo sapevo che era a questo livello questo è difficile infatti sperando che non ci mettono per ultimi vabbè ma diciamo che tu devi volto diventare sopra, non diventare sotto quindi non siamo ultimi, siamo altra l'ultima fila oh no oh oh hai sempre le cose che saltano qua vai su no, vai da lato di altamente ora devi aspettare di mettere la lato che sta giù e poi sarà diventa insieme giusto via sinistra ora vai a destra no, vai a destra vai a destra e ora salta giù vai mi viene regalato che sta scendendo, capito? così vedo dopo sale ma se non salti tu vada da dove sta scendendo ecco qua ora sale, vai ci diamo ci guarda tu vai più su vai salta ora un po' più su mettiti la lato che sta scendendo quello non sale 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 e che fai non sale? ma li portasci tuoi perché mi viene rimasto quasi nessuno la scenda non sale capito? guarda qua no, è l'altro lato abbiamo perso, guarda già ho qualificato tutti da destra destra sono a destra no, sinistra no, no, tutto a destra tutto a destra tutto a destra ehi, due alla sinistra vai ora no, mannaggia ehi, se non si mette colpeglia non sa nemmeno mai abbiamo perso vai a sinistra vai a sinistra qui sono a scendere tutto vai tutto a sinistra salite sopra tutto ora salta ah, finalmente ora tutto a destra vai no, vai a sinistra sinistra ehi, stiamo solo in due questo non sale in amare ora, ora, ora buttati bam ahhh che sfiga vabbè, no, questo vale la pista a 30 secondi non sale una volta e c'è non sale una volta e 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 va bene guardate salta 30 secondi sai che è finita si per cavolo la prossima volta ma questo è una cosa a saltare qua, quando hai visto che non ci sta questa era molto difficile va bene ragazzi nel prossimo video vi faremo vedere qualche altro abatto nel frattempo se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale il nostro canale che è sempre 096 metteteci un bel like ci vediamo nel prossimo video ciao da papi ciao 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 ciao